Con piacere che oggi ho partecipato all'Assemblea Provinciale delle Proloquo Bellunesi per dimostrare innanzitutto la vicinanza a Espedito Pagnussat che ha lasciato la carica di Presidente dopo tantissimi anni e per augurare a Davide Praroran, nuovo Presidente, un lavoro proficuo per le Proloquo Bellunesi. Già da come si sta muovendo lo si vede molto attivo. Le Proloquo Bellunesi dopo tutto quello che è successo in ottobre hanno sicuramente bisogno di aiuto, bisogno di aiuto che l'UMPLI dà che devono dare però anche le istituzioni ma che i dirigenti delle Proloquo Bellunesi sanno dare a tutto il territorio. Desidero ringraziare tutti i volontari delle Proloquo Bellunesi per il grande lavoro che hanno fatto sul territorio. Le Proloquo sono il braccio armato della Regione Vento, io lo definisco così perché grazie al lavoro dei volontari noi riusciamo a fare molto sul territorio dal punto di vista turistico. Le Proloquo tra l'altro rappresentano anche tutti quelli che sono gli uffici IAT di informazione e accoglienza turistica sul territorio. In particolare io vorrei fare un appello approfittando del lavoro dei nostri volontari anche perché ci aiutino a sviluppare un turismo consapevole in questo territorio. I numeri stanno crescendo ma noi vogliamo portare un turismo di qualità e quindi abbiamo necessità di far conoscere tutta quella che è l'arte, l'enogastronomia del territorio, la cultura ambientale. Per questo abbiamo bisogno del supporto dei nostri volontari che sono tanti e numerosi e io li ringrazio per sottrarre tempo prezioso alle loro famiglie che dedicano alla collettività. È sempre importante partecipare a questi incontri dove si può vedere da vicino il grande lavoro fatto dalle Proloquo sul territorio belonese. Di fatto sono il fulcro in un momento così difficile anche per le nostre famiglie sono una grande famiglia allargata capace di dare soluzioni e di essere di esempio per i nostri giovani che hanno bisogno di poter partecipare a delle attività pubbliche per gli altri ed ecco per questo che a queste Proloquo va il grande ringraziamento da parte di tutta la parte politica e dovremo sicuramente ancora di più prendere in considerazione quelle esigenze che vengono per poter risolvere alcuni problemi che impediscono di fare al meglio il lavoro alle Proloquo. In questa bella giornata dall'anno di Piave in mezzo di tutti i prodotti locali c'è da fare un appello e l'appello è quello di cercare di realizzare il prima possibile l'autonomia del Veneto e aggiungo anche della Lombardia e anche di altre regioni perché così facendo noi riusciamo ad avere meno burocrazia, meno lungaggini, meno scartoffie che girano avere un governo regionale sicuramente per la vita dei cittadini, per tutti e per tutte le attività un grande vantaggio. Io ho fatto l'appello e mi baterò fino in fondo per questo tipo di obiettivo. Sono il Presidente Proloquo Bellunesi, oggi c'è l'Assemblea Provinciale che riunisce tutti le Proloquo per incontrarci e risolvere le nostre problematiche. Oggi è un segno di riconoscenza al Presidente Onorario Spedito Pagnussat, tratteremo i temi importanti delle Proloquo, della burocrazia, della sicurezza ed anche i nuovi adempimenti per la riforma del terzo settore. Inoltre abbiamo discusso anche la situazione delle Proloquo Bellunesi con anche dei piccoli aiuti economici da parte del BIM che lo ringraziamo per sostenersi e sostenersi anche nel futuro. È andato tutto bene, le Proloquo proseguono le loro manifestazioni nella speranza che siano sempre sostenute dalle amministrazioni e dai volontari. Grazie a voi, buona giornata.